Il primo brano che andrò ad eseguire è L'umorada di Paquita Madriguere, che era la moglie del grande chitarrista, proprio chitarrista per Antonio Masi, Andrè Segovia. Lei era una pianista, bambina prodigio come Ida Presti e come Maria Luisa Sido, che fu appunto moglie di Segovia. L'amore per quest'uomo e anche per la chitarra, anche c'è nascere questo unico brano che lei scrisse per chitarra. Poi probabilmente c'è l'amore per lui, forse anche quello per la chitarra, chissà, però c'è rimasto questo brano molto humoristico. L'amore per la chitarra, chissà, 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 Grazie a tutti.